Quello che in molti oggi chiamano il vil denaro che governa il mondo e per il quale spesso si fa di tutto, nel corso degli anni ha avuto una notevole rilevanza, soprattutto nelle epoche in cui esistono poche fonti scritte. Le monete hanno un elevato valore come fonti sia per la cronologia che per la storia delle scienze, della cultura e dell'economia. Per questi periodi i rilevamenti monetari, cioè le monete che vengono trovate in una sepoltura insieme ad altri oggetti o in qualche tesoro, sono importanti non solo per facilitare la datazione ma anche come fonti storiche. Forse è per questo che la numismatica, che è lo studio scientifico della moneta e della sua storia in tutte le sue varie forme, dal punto di vista storico-geografico, artistico ed economico, attira tante persone, soprattutto sotto forma di collezionisti, che incrementano un mercato a San Fiorente. A Vibo Valencia l'arqueologo numismatico Giuseppe Collia, conscio di questo interesse, ha proposto, grazie all'associazione Vibo Insieme, un incontro originale di numismatica antica sulla storia della monetazione romana dalle origini all'età imperiale, un periodo durante il quale la monetazione ha un'evoluzione particolarmente interessante. Perché era una necessità dell'autorità emittente, cioè dello Stato che coniava moneta, veicolare diversi messaggi politici e ideologici. Poi in una fase così convulsa come quella della Repubblica Romana, i diversi magistrati monetali, che avevano anche autonomia e facoltà di imprimere determinate immagini sulle monete, fecero largo uso di immagini molto diverse nel corso del tempo. Esistono immagini di personaggi storici, esistono immagini di luoghi, ma esistono anche delle immagini che evocano degli accadimenti specifici, come ad esempio quella dell'assassino di Cesare da parte di suo figlio Bruto. Sì, la monetazione romana è questa, c'erano anche delle monete che come abbiamo visto è il primo assassino, cioè fatto illegale, che viene documentato su moneta. Lo troviamo nel rovescio, i due pugnali con il pilio, con l'iscrizione I di marzo, che celebra la morte dell'assassino di Cesare. Grazie.